ciao a tutti oggi nuovo unboxing è arrivato un oggetto una cosa che aspettavo veramente da tanto tanto tempo più che altro per far fare anche un salto di qualità a quello che è il canale il canale youtube e soprattutto anche per alcuni piccoli progetti che ho in testa e senza altri indugi abbiamo subito questa scatola e vediamo il suo contenuto come potete ben capire è un qualcosa di tecnologico un qualcosa di tecnologico ma un qualcosa che potrà servire sicuramente da oggi in poi per migliorare tutto quello che è il canale youtube ovvero una fotocamera ma che è anche una videocamera 4k 30 frame al secondo la panasonic dcgx 800k ve la spiegherò meglio nel dettaglio il perché ho scelto questo modello perché ho scelto proprio questo tipo di macchina fotografica videocamera e soprattutto vi dirò brevemente anche che cosa ha di positivo questa macchina ma come sempre sapete non sono tutte rose infatti c'è anche qualcosa di negativo e la vediamo subito vediamo intanto il contenuto della scatola come sappiamo panasonic ci ha abituato a un diciamo modesto contenuto per quello che riguarda le sue macchine fotografiche ovviamente non parliamo di macchine fotografiche mirrorless come questa di questo caso ma di fotocamere magari reflex o mirrorless di livello più alto quindi parliamo di macchine fotografiche del valore del costo di 1600 2000 euro se non anche di più lì ovviamente la dotazione rimane un pochettino più completa qui vedremo che la dotazione non è proprio base 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 ma comunque ho dovuto ordinare a parte alcune altre cose per ovviamente aumentare quello che potrebbe essere diciamo l'uso di questa macchina appunto dovuto a un suo piccolo difetto di cui vi dicevo prima ma lo vediamo dopo adesso iniziamo ad aprire la nostra scatola per vederne il contenuto ricordo che panasonic gx 800 k è una mirrorless 16 megapixel quindi parliamo già di una macchina fotografica di un livello avanzato quindi non è più una compatta non è più una macchina fotografica di quelle diciamo piccoline che hanno tutto quanto compreso compreso anche lo zoom ma è già una macchina fotografica questo modello è molto particolare in quanto è indicato proprio per quelli che vogliono fare blog vogliono fare dei video blog per youtube e tutto il resto infatti come vedremo dopo nella descrizione proprio ben specifica della macchina alcuni tipi di dotazioni già da macchina adulta chiamiamola così nonostante il prezzo sia veramente veramente basso in questo momento amazon ce l'ha in offerta non diciamo eccezionale ma un'offerta standard di questo periodo a 364 euro 364 euro per una mirrorless con tutti i suoi bei manualetti ripeto 16 megapixel video in full hd 1080 quindi classico e 4k 30 frame al secondo il 1080 arriva fino a 60 frame al secondo quindi definizione di tutto rispetto la macchina è piccolissima la macchina è davvero ultra compatta ricorda veramente una macchina di quelle macchina fotografica di quelle compatte di quelle proprio non con obiettivo intercambiabile mentre in questo caso la nostra lumix è veramente veramente compatta vi potrei far vedere un confronto a breve con una macchina fotografica di quelle on in one quindi quelle piccoline veramente compatta da paura e la cosa bella di questa macchina è questa cosa ovvero la possibilità di posizionarla anche di fronte a noi e quindi di poter registrare a livello proprio blog come le macchine che registrano video che fanno video già di un livello più alto lo sportellino ovviamente touch a lato abbiamo tutto quello che può servire per la connettività quindi abbiamo le sue prese scusate ma essendo anche nuova e anche bella bella rigida le sue prese quindi vediamo una hdmi e la presina per la ricarica qui sotto abbiamo il vano per la batteria e lo slot per mettere la nostra micro sd particolarità che ho scoperto recentemente questa piccola tacchettina di gomma che serve per far passare l'adattatore della batteria con il cavo usb in modo da poterla collegare e registrare senza più guardare alla batteria quanto si vuole in pratica a una durata x di tempo a seconda di quanto noi vogliamo fare la registrazione ha i classici fermini laterali per la custodia per la custodia pardon per la tracolla o per l'eventualmente per il laccetto e tutte le sue funzioni con ghiera girevole oppure con i vari interruttori ma questi li vedremo dopo non c'è nient'altro nel senso che poi all'interno della nostra confezione abbiamo ovviamente la batteria e ovviamente abbiamo il suo alimentatore con il cavetto di ricarica il laccetto per attaccare la nostra la nostra fotocamera e la sua batteria batteria da 650 680 miliampere questo è il neo che vi dicevo prima con la batteria si fanno in circa 210 220 scatti il che vuol dire veramente poco ma purtroppo si paga quello che è la grossa tecnologia di questa macchinetta contro una batteria piccolissima perché d'altronde così doveva essere per stare in questo in questo spazio altro non abbiamo nella confezione per quello che vi dicevo che un po così non ci sono custodia non ci sono altre cose di particolare poi vi racconterò anche un discorso legato a il para obiettivo una cosa che ho pensato di fare io e quindi che vi farò vedere e per adesso questa è la scatola e quindi l'unboxing ecco questo è il confronto che vi dicevo per le dimensioni di questa mirrorless davvero davvero compatta questa è una nikon coolpix s 9100 quindi un modello di 3 4 anni fa come macchina fotografica ma è una compatta è una classica macchinetta da tenere sempre dietro per qualunque benienza per qualunque momento ha il suo tele obiettivo fino a un massimo di 18 per a livello di zoom fa delle foto bellissime che fa veramente delle foto fantastiche e come vedete cioè questa è è all'apertura questa è all'apertura la macchina questa è invece è la mirrorless panasonic gx 800 vedete che le dimensioni sono molto simili parliamo addirittura quasi della stessa identica dimensione anche in larghezza anche in altezza con ovviamente una tecnologia completamente differente questa registra per esempio dei video a 1080 fino a 30 frame al secondo qui arriviamo già a un 4k 30 frame al secondo quindi è proprio differente questa ha un obiettivo fisso con sì il nostro bel flash incorporato le varie nostre funzionalità non è ovviamente touchscreen e lo zoom arriva fino a 18 per incorporato questa invece è una mirrorless con obiettivo intercambiabile quindi si può ovviamente staccare viene dato viene data di default come fornitura con quello che viene chiamato pancake quindi quello molto molto compatto viene dato proprio con questo tipo di obiettivo che è molto comodo molto piccolo molto compatto e comunque ci fa fare tutto perché ci dà la possibilità di veramente scattare delle foto fantastiche anche con uno zoom fino se non ricordo male a un 6 per la macchina fotografica non è stabilizzata non ha uno stabilizzatore incorporato come per esempio la gx 80 la gx 85 ma lo stabilizzatore è nella lente la sua ottica uno stabilizzatore integrato cinque assi e di flash che vi farò vedere dopo perché occorre mettere la sua batteria una differenza il vano posteriore è molto simile come vedete la differenza è che qui posso introdurre direttamente una micro vedete una micro sd all'interno mentre la cup x essendo comunque di quattro anni fa come vi dicevo necessita di una classica io in questo caso adattatore con dentro la sua sim nessun problema funziona perfettamente però ecco già è una differenza sostanziale rispetto alla precedente questa sicuramente dura di più come batteria intendo rispetto questa ma ripeto questa anche dalla sua un pannello che comunque touch screen con delle funzionalità che sicuramente le fanno consumare molta più corrente che diciamo questa comunque vedete che portarsela dietro diventa veramente veramente banale questa postare veramente ovunque vi dicevo di qualche piccolo trucchettino che potete adottare per utilizzare al meglio la la fotocamera portare dietro così vuol dire comunque avere un una velocità per lo scatto che per cui del doverla togliere da dove la riponiamo quindi che potrebbe essere o marsupio o comunque dal suo porta macchina fotografica della sua borsina con in più il tempo di dover togliere il copre obiettivo per essere pronti a scattare esiste in commercio adesso lo so prendo perché non voglio farvi vedere la confezione un piccolo oggetto del posto veramente veramente ridicolo che è questo che nient'altro è che un filtro polarizzato esiste anche non polarizzato e filtri semplici da porre a davanti all'obiettivo questo filtro ha un vantaggio che fa sì che la nostra macchina fotografica sia sempre pronta sia sempre pronta a scattare nel senso che non dovrò perdere tempo a togliere il copre obiettivo per scattare foto ma mi basterà accenderla e la macchina è pronta a scattare che differenza c'è che innanzitutto con un filtro polarizzato le foto vengono notevolmente meglio perché è molto particolare come va a accentuare i colori e come va a diminuire invece alcune diciamo alcuni riverberi di luce che potrebbero arrivare a livello ambientale ma soprattutto è pronta immediatamente perché basta posizionarlo avvitarlo e praticamente è pronta la macchina a scattare questo è un trucchetto è un piccolo trucchetto che vi posso consigliare anche perché questo affare costa 9 euro e 90 su amazon e rovinare graffiare una lente ti costa molto molto di più senza trasportarla con il suo coprilente apposito esistono poi anche altri trucchetti che vi farò vedere dopo quando vi spiegherò dopo che vi spiegherò meglio le funzionalità di questa macchinetta di questa macchina fotografica spero che quando comincerò ad usarla si noterà la differenza rispetto questa videocamera che sto utilizzando in questo momento anche perché la qualità è veramente veramente differente da questa adesso ci interrompiamo un secondo e vediamo subito subito dopo le caratteristiche di questa macchina grazie a tutti Grazie a tutti.